E' freddovolo qui, chiudo eh, sai che metti? E' meglio così, è meglio, si vero? Ok, metterà l'aria a prendere sopra e metterà qua, va bene, stai fresco dai così. Senti, fai indietro le macchine storie che stavano gli anni eh, vecchietti dell'80 questa, capito? E' meglio, Grazie a tutti.